Agosto 1991, Omar, Nuccio Chiara e papà Nanduzzo Chiara, Narduzzo, Ugrapper, Nini, la terza ha detto Scuppet e Angelo Pettino ha detto Chet Baker e poi c'era Francesco, Nicola e altri amici. Però noi quattro c'eravamo, Pablo non era ancora nato, era già nei nostri pensieri e bevemmo con questo rito che ci insegnò il papà mettere il finocchio, le foglie di sedano, l'acce, l'acce, un rito pugliese antico simile al calume della pace, piano, se vogliamo al cirum, con rutto finale. E con rutto finale, un segno di gradimento, di succhiare, di suggere dalla bottiglia del vino con le foglie di sedano il vino, Pablo, e ora lo facciamo con te noi quattro, per passarti il testimone e lo stesso Trullo. Ma lo facciamo non col vino fatto in casa, che va fatto così, lo facciamo con uno dei nostri vini preferiti, con un cavalchino a Medeo di Bustogna. Siamo a metà tra la liturgia e il sacrilegio. Bravo, bravo, esatto. Questa cosa qui volevo, l'hai sintetizzata proprio perfettamente. E quindi adesso ce lo vediamo. Però ci dispiace per cavalchino, ma deve essere... Ma non ci dispiace, ma dediciamo a questo cavalchino a questo brindis che sia... Alla memoria di Narduzzo, Crapere... Alla memoria di Narduzzo che sia anche un modo per rendere eterno questo vino straordinario. Esatto, esatto, esatto. Evviva. Chialà, però adesso prendi... Guardate come si fa questo procedimento, ha l'antico rito pugliese. La prima frase che... Vasciaggete. È andata a terra, bisogna... No, 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 chialà, da terra no, però che cazzo. Ma non la prontiamo. Va bene. Allora, scusa. Andiamo avanti. Allora. Perché c'è poca luce, porca. Eccola qua, così aveva fatto il tuo papà. Esatto. Poi le aprivano a Narduzzo. Mi ricordo suo padre, che emozione. Ciao papà di Nuccio. Io devo fare delle prove, eh, per vedere... Poi lo apriva il padre. Esatto. E si diceva, succhia, succhia. Succhi. Perché se non succhi non viene, eh. Non è che non scende più di... E questo è quasi... Allora, prima prova. No, posso fare io ciò. Per rendermi... Grazie. Apri bene come si fa con quella cosina. Ma lo puoi mettere anche più dentro. Madonna, for... Troppo. Qualcosì meno. L'uomo di un. Non tira molto. Esatto. Troppo. È troppo. Quando è troppo è troppo. Quando è troppo è troppo. Perché è buono così. Perché è troppo, Chiara? Perché non tira. Ecco, devi bere il vino. Non tira... Non sto parlando di te, stai lì. E tira, tira, tira. Il rutto al prossimo giro. Devi aprire... No, perché... No, sai perché si fa il rutto? Tira. Bravo, Paolo. Bravo, Paolo. Mi dora mi asp��i con la canzone. Ah 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 ah. No